È la start-up bolognese Builti la vincitrice della terza edizione della competition Il Valore dell'Acqua 4.0, una iniziativa di Urban Hub Piacenza. A sfidarsi, otto start-up provenienti da tutta Italia, con alto profilo e idee innovative, attuabili sul territorio e replicabili in altri contesti. Gli ambiti di applicazione vanno dai sistemi di manutenzione e monitoraggio degli impianti al controllo dei fenomeni naturali, dalle energie rinnovabili alla sostenibilità ambientale, dalla riduzione dei consumi idrici ai sistemi per l'agricoltura di precisione. Queste sono aziende, microaziende, sono start-up che hanno idee grandiose e meritano di essere portate agli occhi di chi poi possa essere un investitore o chi come costruzione di bonifico può essere un utilizzatore finale. Builti, che in soli quattro anni ha sviluppato progetti in diversi paesi europei ed extraeuropei, ha proposto una piattaforma per il monitoraggio di infrastrutture idriche edili, ponti e strade. L'interesse non è andato solo alla vincitrice, ma anche su chi si è focalizzato sull'energia. In particolare mi ha fatto un'ottima impressione un paio di start-up che si occupavano di produzione di energia elettrica da sistemi idrici, quindi come bacini o canali, e questo mi sembra che per il consorzio sia qualcosa di molto importante. In particolare mi ha fatto un'ottima impressione un'ottima impressione. Grazie. 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 Grazie.